Fare una bellissima mostra che è frutto di una collaborazione tra due paesi, tra due istituzioni importanti, una collaborazione con l'Ermitage, quindi davvero è una mostra che è frutto di un progetto scientifico importante, che è quello di cui ha bisogno l'Italia. In più è importante che è un'altra iniziativa che dimostra quello che Torino è diventata con una trasformazione in cui pochi credevano, ma con un'amministrazione intelligente che ha dimostrato che investire in cultura non è soltanto un dovere per tutelare il nostro patrimonio, per offrire delle opportunità agli italiani, ma è anche un modo di far crescere l'economia, di portare turismo colto, turismo internazionale, turismo intelligente. La riforma del sistema museale che stiamo facendo in Italia, gli investimenti sulla cultura e sul turismo, e puntano a fare accadere in Italia quello che a Torino è già accaduto.